Buonasera e benvenuti in un altro riassunto di quanto è successo sulla giornata borsistica di DAX e di Fuzzinib. Allora, iniziamo con i DAX. Ero entrato long, ok, in questi pressi. Ero rimasto in overnight una delle poche volte che succede. E abbiamo aperto qua, vista la prima candela, chiuso, portato a casa, gain. Successivamente però mi aspettavo una prosecuzione della salita, come vi avevo anche segnalato nell'analisi, che non c'è stata, come vedete. Anzi, arrivati al massimo della giornata a 10.986, abbiamo iniziato a ricacciare fortemente. Abbiamo quindi fatto un Ux di Williams, è una figura che suggerisco di andare a vedere chiedendo direttamente a Google. Fate velocissimi a fare formazione da soli. O, P, S di Williams. E successivamente siamo andati pesantemente giù. Dato che era incerta la partenza e lo è tuttora del quinto t-3, che potrebbe tranquillamente essere iniziato qui, come qui, non me la sono sentita di andare short in violazione di questo minimo. Per cui, vi faccio vedere. Se la violazione avviene qui, ok, a 22 barre, io non entro in 22esima barra, che può essere l'ultima barra di ribasso sulla media mobile a 50 periodi, provando la fortuna, quando poi oltretutto sembrava che si ripartisse a rialzo. No, niente da fare. Anche successivamente, con la rottura, fossimo arrivati qua, ok, a 21 barre, 22 con questa. Provate se la partenza del cilindro t-3 non sapete se è stata fatta qui oppure qui? La risposta è evidente. Per cui, o qui o lì, a un certo punto siamo arrivati a 36 barre, oppure a 30 barre. Oltretutto, ci si poteva aspettare anche un arrivo sulla media mobile a 200 periodi, ma invece no, non l'hanno fatto. Si sono girati, candelone verde e via, partenza del sesto t-3. Tra l'altro, continuo a lasciare dei puntini, perché, come sapete, su questo t-1 non sono certissimo che ci siano soltanto due t-3. Potrebbe essere un t-1 come un t-2. Per cui staremmo ragionando per ora già a tre tempi, lo vedremo a breve, anche perché abbiamo il primo tempo, secondo tempo, e dato che non può essersi ancora chiuso il t- settimanale, perché siamo al sesto t-3, vedremo dove dovrà fare il terzo tempo, perché il tempo per spingere ad andare su, comunque, e per andare al target dato questa mattina, ovvero lassù, ce n'è tanto. Per cui se qui si è chiuso comunque un t-1 e qui deve partire un nuovo t-1, spinta almeno per sei ore, ci deve essere, anzi, cinque ore e mezza perché siamo su DAX. Questo perché? Perché se vuole far partire un nuovo t-1, ha bisogno, appunto, di 22 barre lateral rialzisti, anche, comunque, come minimo, eventualmente che non si vada sotto questo minimo a 740. Queste sono le regole base, della ciclica base, peraltro. Noi siamo a 11 barre, siamo a metà strada, al minimo, perché sapete che i cicli durano da 6 a 8 e media a 11 ore al massimo. Per cui siamo a 11 barre su minimo 22, massimo 44. Dato che questo è il quadro, vediamo come reagiremo di nuovo a media mobile, scusate, a livello inferiore della curma, media mobile e eventualmente anche livello superiore, perché, come detto, qui bisognerebbe ritornare e poi bisognerebbe andare ancora un po' più su. Se è corretta la centratura o altro. Viceversa, rapida chiusura qui, del settimanale a 6 t-3, poi ripartenza. È ancora troppo complesso in questo momento, anzi, troppo complesso. Non ci mancano ancora... ci manca ancora il movimento del mercato, quindi dovremmo aspettare domani perché qui abbiamo già avuto una violazione di swing importante che ci dice, ragazzi, è partito il sesto t-3? Sicuramente questa roba qua non appartiene più al quinto t-3. Però, appunto, siamo al sesto t-3. E quindi, cosa vorrà fare? Lo sapremo a breve, anche perché un altro punto di controllo interessante comunque è dato da questo swing inverso qua. a 10.770 punti, quindi 52 punti di distanza dalla chiusura di oggi? Sono tanti? No, assolutamente. Ci dicono tante cose. Idem, se si dovesse proseguire, fino a questo swing qua a 10.856. Se non sbaglio, i futures sono già a rialzo. Anche perché gli Stati Uniti stanno aggiornando i massimi. Per quanto riguarda l'inverso, che cosa abbiamo? Abbiamo una cosa differente, ovvero qui o stiamo andando in chiusura a 32 barre oppure, come sapete, possiamo arrivare fino a 44. Quindi può fare tutto quello che vuole e continuare a salire. E di nuovo il punto di controllo ritorna a questo. 10.770. Se non violato, continueremo ad andare in chiusura di t-3 inverso che è arrivato solo a 32 barre su massimo 44. Potrebbe farne 36, potrebbe farne 39, può fare quello che vuole. Vediamo appunto come si scontrerà con questi livelli di resistenza e con quelli dell'algoritmo. Passiamo al Fuzzimib. Fuzzimib è un pochino più, tra virgolette, sentice nella lettura. Anche qui, se si è identica cosa, come avete visto. Boom! Chi è rimasto long ha fatto un bel godagno. Poi, ups di Williams, però ha due rate. Prima rata, seconda finta rialzo, poi di nuovo seconda rata e quinto t-3 diventato ribassista, rimbalzo sulla media mobile a 200 periodi e notate che questi train frame li utilizzo io. Per cui, perché li utilizzo? Perché ovviamente servono a capire dove ci possono essere dei supporti, della resistenza aggiuntiva o altri livelli di algoritmo che ho. E anche in questo caso, partenza del sesto t-3 alle 15, quindi abbiamo già tranquillamente un t-5 e passa a rialzo, perché qui può essersi chiuso t-5 e poi questo. Quindi, confermo della partenza del sesto t-3. Ed inverso? Inverso cosa abbiamo? Eccoci qua. Anche qui, siamo arrivati soltanto a 32 bar. Quindi, stesse identiche considerazioni per quanto riguarda il DAX. Direi che dovrebbe essere tutto. Non voglio farvi prendere troppo tempo perché altre considerazioni intanto in questo momento non possiamo farne. Le rifaremo sicuramente domani mattina prima dell'apertura o durante l'apertura anche per vedere effettivamente se c'è una corrispondenza tra quello che dicono i future e quello che poi effettivamente succede a monitor. Mi raccomando soltanto fate attenzione come vi muovete perché chi sa muoversi anche in momenti di lateralità come questa si muove bene e guadagna. Chi invece purtroppo deve magari ancora migliorare dal punto di vista del trading rischia soltanto di fare danni su danni su danni e poi rischiare di andare in revenge trading e quello ancora peggio. Se l'analisi vi è piaciuta mettete un like sottoscrivete il canale mettete cliccate sulla campanella per avere le ultime informazioni piuttosto che raggiungetemi nei miei due gruppi su Facebook. Se volete avere informazioni mandatemi un commento e vi potrò dire tutto anche relativamente del materiale gratuito che posso fornermi. Vi ringrazio e vi auguro una splendida serata anche oggi splendida giornata.